Non sarà determinante per la maggioranza che sostiene il sindaco Umberto Di Primio, ma è importante perché è l'espressione di quella ampia fetta dell'elettorato di Chieti, l'8%, che ha scelto di governare la città con quel progetto amministrativo. Il nostro, dice in conferenza stampa il vice sindaco e leader di giustizia sociale Bruno Di Paolo, è anche un dovere morale. Si smorsano così le polemiche alimentate all'indomani dell'insediamento del nuovo consiglio comunale di Chieti da qualche frizione di maggioranza sottolineate dall'intervento del consigliere di giustizia sociale Bucci, che sul flop del centro-destra alla prima votazione del presidente dell'Assemblea è stato perlomeno il più corretto ed onesto. Lui, col presidente, non lo gradiva se così imposto. Ha voluto esternare a titolo personale alcune riflessioni che magari potevano essere un po' di tutti, però lui le ha fatte in maniera palese. Qualcun altro invece si è nascosto dietro il voto segreto per lanciare dei piccoli messaggi. L'ho detto in conferenza stampa, lo ripeto qua davanti a lei, siccome i vigliacchi si esaltano quando c'è il voto segreto e poi magari in consiglio non riescono a dire niente, beh, questa è una cosa che noi non accettiamo, preferiamo più Bucci che riesce a dirlo, però almeno riusciamo a capire qual è il suo intento. Il suo intento è quello di lavorare per la maggioranza e per il bene di questa città. Bucci, insomma, non è un cavallo senza briglia, ma un valore aggiunto per giustizia sociale e, ritiene Di Paolo, per la maggioranza. Il suo gruppo avverte non starà lì ad alzare la mano, svolgerà un'azione critica ma assolutamente nei binari della piena fiducia al progetto di primio. Se ci sono o dovessero esserci frizioni in maggioranza non dipende e non dipenderà da giustizia sociale. Abbiamo anche dimostrato di essere un gruppo che non solo vuole appoggiarlo, ma vuole essere anche partecipi della sua amministrazione. vogliamo contribuire a proporre idee e anche magari a ottenere eventualmente fra i cinque anni ulteriori consensi che già ce ne sono stati molti.